Molto belle, questa è un'estate molto importante per noi marchigiani perché è un'estate che abbiamo bisogno di umorismo e resilienza dopo quello che abbiamo passato col sisma però mi piace concludere sempre le serate con questa bellissima frase che ho letto su Facebook dove dice questo se qui sotto c'è l'inferno è evidente che qui sopra c'è il paradiso potete vivere questa terra perché è bellissimo